Il Giro dorsale Il Giro dorsale Si infonia un po' Forse al limite del passi E arriva il canestro Spaffata! Il Giro dorsale Il Giro dorsale Spaffata! Clamorosa! Il recupero Il Giro dorsale Non è riuscito a riavvicinarsi Passaggio tutto campo di Mladenov Per Galassi Stoppatissima Di Giovanni Poggi su Galassi Davvero molto bravo qua Il numero 9i Faenza a negare un canestro semplice alla Virtus Rubata di Voltolini Ma cosa ha fatto Mladenov? Lo inchioda con la stoppatissima Da Meluzzi a Landi Bisogna andare dentro Ogbeid Palla per Anumba! Che tira giù il palassetto Andando in cielo Con la mano destra Molto gasato E molto divertito Che ha Aizzato il pubblico Dopo l'ennesima Spettacolare difesa Qui la palla! Per Ogbeide! Tutto giusto qui Vedetti Col taglio al centro La palla poi per Ogbeide dal lato debole La schiacciatona di mano sinistra Blocco Bonaccini Scambia con Lewis Poi arriva Anthony Il lob La schiacciata Prepotente Del centro Della ora sì Mamma mia Questa volta Era proprio un passaggio Alli up Mamma mia Johnson Per Ogbeide Ragazzi stiamo cominciando a vedere Una coppia di americani a Rimini Come aveva detto Turchi all'inizio dell'altra Un'altra Un'altra Ancora Ogbeide a tirare giù i tabelloni